salve fanni vi presentiamo in diretta anzi no ben diretta si scherza ovviamente se vi presentiamo il nuovo video del mini pullaggio questa volta veramente di un piccolo fuzugo fest siccome avevo a disposizione una ventina di gemme non c'avevo voglia sinceramente di aspettare 27 siccome il nostro team ha bisogno di qualche giallo allora ne approfittiamo per prendere qualcuno di questo e la speranza di trovare qualcuno dai 5 ai 6 stelle e fa smadonnare il grande Mr. LOL perché lui ha voglia di smadonnare oggi si sono pronto 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 prontissimo ok andiamo a fare i 4 i 4 pullaggi ok il sugo feste veloce si il mini sugo feste sugo ristretto insomma vabbè lanciamo 6 stelle lo vedo lo vedo c'è che un 6 stelle lo vedo oddio un più ma quanti shopper ci ho oddio vabbè comunque sembra fatto apposta è dottor puccio pesca di shopper ah questo qui quello viola in più perché hai già un un shopper un cotton ok ma perché tutti i pucci li devo prendere io l'ho capito eh perché è giusto si chiama dottor puccio ok un altro giallo io 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 mi sto cagando addosso che esce un 6 stelle ok che abbiamo preso adesso brisbee Mr. Five Mr. Five yes questo qui mi esce sempre eh a me questa è la seconda volta che mi esce mi pare pure a me vediamo un po' NAAA KAAAAAAAAAA minchiamo sempre questo è un sistema un altro oro mamma mia eh papà chopper umano che coglioni vabbè alla fine lo unisco ho i gialli volevi te l'ho dato che pari si ma noi chopper cazzo bo bo un altro con più vabbè oddio grande ma questo qui è shanks normale vabbè però shanks è sempre giallo si si con più uno che va bene no è shanks normale vero rarità rarità quattro con più uno sembra normale si si quello non è il 6 stelle no non è il 6 stelle va bene è andata così però va bene uguale perché alla fine c'avevo le schifezze c'avevo i gialli vi faccio vedere perché magari uno dice vabbè magari sta trolleggiando no a parte no non l'avevo fatto ancora il il team giallo non l'avevo ma che cazzo sto prendendo e non è troppa e non è troppa troppa emozione oddio oggi è il delirio allora questi i miei gialli di oggi ci prende cioè in totale io ho questi gialli come potete vedere è un po' una schifezze comunque comunque hai detto voglio shanks ti è uscito prima della registrazione vabbè o normale o anormale mi hai chiesto ma shanks è forte mi facciamo ma solo il 6 stelle boh ti è uscito shanks vabbè dai tutto sommato ci può dare una mano il capitano vabbè volevi un giallo ti è uscito che vuoi di più si ma il problema è tutti sti cazzo di chopper che ci faccio io vabbè che sto dottor puccio ma non è che ho gli asili dei chopper lì alla casa ti fa il brodino di chopper ma poveraccio io non me lo mai che faccio mi auto mangio no capi vabbè ci sono segnato pure qua dottor puccio con questo grande sugo del dottor puccio vi salutiamo vi benediciamo vi mandiamo a quel pa... eh volevo dire continuate a vedere i nostri video continuiamo a vedere i grandi sugo feste del dottor puccio e si è mister lol che rosica quando di solito becco willyforti ma oggi non è giornata oggi no non è la tua giornata oggi perché su dockham festival schifo qua peggio mi sento tranne forse shanks qualcosina qui ti sono usciti quattro ore ma uno più schifo dell'altro quindi oggi ti è andata male e vabbè dai ragazzi ci si riprova la prossima volta che sarà il mese prossimo anche perché per il 27 sarà difficile riuscire a fare un'altra un altro pullaggio tranne se non mi danno 10, 15, 20 gemme per regalo 50, 90, 1000 solo a te e ma sai com'è dottor puccio merita merito da 40 basta ne voglio 40, 50 lui chiede la bandaida domani mi arriva l'accredito e con questa grande notizia vi salutiamo e si come al solito cari fanni e il segnaletica puccio fanglab ma segnaletica la segnaletica stradale qui cari fanni come al solito commentate condividete mettete mi piace e iscrivetevi sia al canale ibig che al canale personale dottor puccio dove vi sto portando in questo periodo i giochi retro game e qualcosina nell'ambito di minecraft ma non nella serie dedicata a minecraft come la puccio craft ma i mini games di minecraft e va bene e anche al canale di one piece vero ragazzi perché ci siamo sempre dimenticati mettete mi piace al canale di one piece perché ci sono delle bellissime cose musiche video pullaggi e tutto quello che volete trovare cazzi e mazzi insomma trovate di tutto puccio e contro pucci trovate tutto sul canale di one piece quindi i canali consigliati sono ibig dottor puccio e one piece i tre canali che noi consigliamo assolutamente di andare a vedere e mettere un bel like e iscrizione chi è appassionato di one piece va su one piece un nome una gananzia ciao ciao vanni Grazie.